Ecco, allora che cos'è che non basta? Perché insomma è stata ampliata. Quando lei nella legge mette dentro di stabilire grave turbamento vuol dire che un giudice deve già stabilirlo. Ma nella mia casa è normale che io a luna e dieci di notte mi sveglio con tre persone, è normale che sono turbato. Nella proprietà privata deve essere sempre legittima la difesa. Che poi ci sia un giudice che per tre mesi, due mesi, indaga e vede, va benissimo. Però siccome io l'ho vissuta e so cosa vuol dire, perché lei metta a caso che quella sera lì questo ragazzo era girato di spalle e io avrei sparato la schiena in casa, non mi si può venire a dire che io ho sbagliato. Io mi sono solo semplicemente difeso in casa mia. È questo che non funziona. Metta a caso un'altra cosa, che l'olgiva non usciva dal corpo e cadeva nella cucina. Quello era matematico che era in cucina, ma metta a caso che non usciva e andava giù dalle scale. Già i giornali, i medi, hanno detto che avevo sparato fuori. Si figuri come andava a finire questo processo. Allora bisogna chiudere il cerchio, partire a monte, tutelare la proprietà privata sacrosanta e se tu, un reato del genere, va punito con vent'anni certi, allora ti passa la voglia.